Seconda tappa di Asci per Cava, continuano i nostri eventi sul territorio per parlare con i giovani e per diffondere questo messaggio su una nuova cultura della mobilità. Una mobilità che deve essere sostenibile e responsabile e per questo siamo qui a sensibilizzare i giovani, che avranno poi a gennaio 2013 anche le dimostrazioni dei corsi di guida sicura e una notte in discoteca. Proprio per avere questi messaggi che devono indicare loro qual è la strada giusta, qual è la strada più sicura e quella da percorrere. Siamo molto contenti e particolarmente grati di poter contribuire a questa iniziativa molto importante per elevare la sensibilità sui temi della sicurezza stradale, una problematica che affligge l'intero territorio nazionale comportando gravi disagi e gravi ripercussioni sulla vita di numerose famiglie. Quindi è importante alimentare una nuova coscienza, una nuova sensibilità per far sì che la strada torni a essere un strumento per viaggiare, per conoscere nuovi posti senza essere afflitto da problematiche gravi, quali ferite o decessi numerosi come attualmente purtroppo stiamo registrando.